Legge elettorale, mediazione tra le diverse forze politiche, l'ipotesi di voto anticipato, lo scontro sull'Election Day tra Bersani e Alfano, tutto questo tra le righe nel nuovo intervento del Presidente del Senato Renato Schifani, oggi a Palermo per un doppio appuntamento a Palazzo Steri. È possibile ancora lo spazio di manovra per un accordo? Le regole parlamentari sono precise e chiare, si voterà in Commissione e poi si voterà in Aula, non intendo assumermi naturalmente la responsabilità di paralizzare l'andamento di questo iter parlamentare così strategico, poi ripeto l'ho detto ieri, al momento del voto ciascuna forza politica si assumerà le proprie responsabilità dinanzi ai cittadini, dinanzi al Paese, dinanzi ai loro partiti. Spazio per una mediazione? Io lo confido sempre, mi auguro che sulla legge elettorale e sulle regole vi sia la maggiore condivisione perché più le leggi sono condivise i migliori sono. Il Presidente del Senato, dopo un breve scambio di opinioni con il Sindaco di Palermo Orlando sulla situazione della JCP, è intervenuto alla consegna delle benemerenze attribuite dall'Università di Palermo a sette studenti e ricercatori scomparsi. Un'iniziativa nell'ambito del Memorial Valerio Margiotte, il docente prematuramente scomparso nel 2002. Le benemerenze sono andate ai familiari dello stesso Margiotte e degli studenti Mertue, Canepa, Romano, Ferruzza, Caime e Genco. Un'ultima benemerenza è stata concessa con un apposito decreto del rettore Roberto Lagalla alla studentessa del liceo Umberto I, Carmela Petrucci, uccisa nelle scorse settimane nel tentativo di difendere la vita della sorella, rimasta gravemente ferita sotto i colpi dell'aggressore, un ragazzo di 23 anni adesso in carcere. Una giornata che ha riconfermato quello che deve essere il ruolo dell'Università come luogo educativo e formativo. Aver voluto ricordare un docente che ha speso la propria esistenza in favore dei giovani richiama certamente il valore della memoria, il valore della professionalità ma anche il valore della competenza. Oggi più che mai l'Europa richiede un accreditamento sanitario delle professioni e voler garantire competenze, abilità e conoscenze è la premessa essenziale per avere in prospettiva per giovani che siano all'altezza di un futuro, di una prospettiva che non è semplice, soprattutto in questa fase estremamente complicata del sistema competitivo in Europa e nel mondo.